A me mi è sembrato di vedere un teatro nuovo e poi alla fine una cornice. In questo video sono gli oggetti che recitano e un bambino le guarda da lontano. Perciò quando era Pasqua non potevamo uscire e quindi dovevamo restare a casa. Tra poco potremmo uscire e mi fa sentire felice. La sedia piccola e la sedia grande mi servono una mamma e un figlio. Poi quando è venuto il baule grande, il baule piccolo, quando il baule grande ha tirato fuori i fili, mi sembrava che aveva partorito. Un magazzino con oggetti in movimento che cercavano un posto in quello spazio. Quello grande è il papà perché è grande, c'è il piccolo che lo segue. Lui e mamma e papà mi sa pensare. Che gli adulti non ascoltano i bambini. Io vedo due amici che si scambiano i giochi e vi stanno dentro le casse. Poi arriva il papà e vi gioca con loro. Poi arriva il papà e vi stanno dentro le casse. Poi arriva il papà e vi stanno dentro le casse. e poi inventa una sua storia sulle cose che ha visto. Tutto è più bello. Non è l'ora di tornare a sola, per te riparci il teatro. E voglio stare con te e tutti i miei di te. Ti doi appena, non faccio so te. So te.